Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Quedo su Server 2, in un nuovo gameplay in cui prenderò ammazzate ma proprio tante Vabbè, è Gang Beasts ragazzi ed è un gioco che conoscete abbastanza bene Però, però, questa è la versione beta, quindi potrebbe crashare e potrei vincere Non lo so, in realtà è una versione che non abbiamo visto molto, ma è cambiata la fisica, sono cambiate tante cose È molto più veloce, quindi potrei, e dico potrei, aver vinta una volta tanto Vedete che è molto più veloce Oh, ma tua sorella però È molto molto più veloce rispetto... Oh, oh! Dai! Muori! Guardalo, guardalo! Muori! Madonna! Ma che cazzo è successo? Perché si è rialzato volando? Oh, com'è fatta a rialzarti volando? E dai, ma tu già ci hai giocato! Ma non ci ho giocato! Vedete che gli ometti hanno una violenza inaudita Ehi! È molto più violento Da! Allora, ci si rialza molto più in fretta Meno male! Sì, tranne io, tranne io Vieni qua! Vieni! Vieni qua! Dai che è andato! Vieni! E ti stancherai, mi spiace ma ti stancherai Non mi stango, non mi stango Non mi stango Ti sta cominciando a prendere Dai! No! È andato giù! È andato giù! Oh! Madonna! Vola! No! Come hai fatto? Ma dai! Ma ogni volta! Madonna! Che cazzo è? Il montante della morte quello! Madonna! Aspetta, aspetta! C'è rosso! Aiuto! Aiuto! No! No! Il montante! Stava per morire! Madonna ragazzi! Mi ha messo a terra! Dai! Madonna! Ma perché ti rialzi così in fretta? Da! Vola! Madonna! Rialzati! Madonna! Guardalo! Guardalo quanto è aggressivo! Non capisco perché tu mi pesti a sangue e io no! Madonna! Che cazzo di tasti! Vieni qua! Ragazzi! Almeno! Almeno uno della cappotta! Della scappotta me! Oh! Oh! Salta! Salta! Salta si impara! Madonna! Madonna! Attenzione! Dai! Occhio ragazzi! Sta scordinando meno male! Madonna! Ma io non riesco a prenderti! Allora! Come cazzo? Buttalo! Buttalo! Oh! It's easy! It's easy! Dai! Alzati! Guardate! Guardate! Guardate ragazzi quanto è aggressivo Redex! Dai! Madonna! Mamma mia! Sta mettendo in discussione la mia... Attenzione! Attenzione! Nooo! Sì! 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 Ragazzi! Devi morire! Questo nuovo King Beast mi piace! Attenzione! Attenzione! Quella me la sono meritata! Aspetta! No! Non vale! Guarda! È diventato difficilissimo buttarlo giù! Guarda! Ah! Prendilo! Madonna! 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 Guarda quanto c'è il culo! Mi ha colpito con... Con l'anima! Ma dai! Dovresti morire! Sei sul rosso! Perché tu no! Eh! Guarda! Recuperati! Madonna! Ho fatto... Madonna che... Guarda che culo che ha! Però quando ti rialzi... Madonna! Quando ti rialzi... Sei... No! No! Dai! Che succede quando mi rialzo? Quando ti rialzi sei molto più forte ho visto! Ma forse perché ho la stamina tutta carica! No! Ah! Ma perché questi... Questi salti? Io non ci sto a capire di niente! Ma il mio rimane alzato! Torca! Ragazzi! Combattutissima! Io posso dire che preferivo il vecchio ganglist! No! Perché non si capisce niente! No! Allora! Abbas... Donna che botta! Via! Via! Devi morire! Prendilo! Ma perché non... Guarda quante botte che... Dai! Io non ci sto capendo più niente! Colpisco da dietro, davanti! Eh sì perché dalle comitate anche adesso! Sì ma... Ed è meglio perché io non mi potevo mai difendere quando mi agganciavi! Oh! Donna! Come donna! Madonna! No! Non ce la farai! Ma guarda! Combattutissimo! Ma non si alza più l'avversario! È impossibile alzarlo! Devi morire! Devi morire! Se ci fate caso, Redez non è mai andato giù perché l'ho alzato! Cioè è andato giù perché è rimasto attaccato e poi si è staccato ma... Dai! Porca miseria! Mi hai dato un cartonato di quelli violenti proprio! No! 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 Ma come è possibile buttarlo giù? No! No! Ma come è possibile? Che cosa hai fatto? Non lo so! Ma raga fa cagare così! Non capisco quello che succede! No! 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 Attenzione! Attenzione! Verrai con me! O ci salviamo in due o moriamo! Oh no! Oh grazie! Un paio di coglioni adesso vieni qua che devo fare una cosa! Vieni qua che devo fare una cosa! Madonna! No! Morto prima lui! Non male! No no! Tutte e due! Due a uno! Come hai fatto a fare quelle cose alti? Vai! Vince! Attenzione! Vince! Colpo di scena! No! Non ho mai vinto il Gang Beasts! No! Veramente è ingiocabile! Colpo di scena! Ottimo! Ottimo! È diventato il gioco per Raider! No! È diventato estremamente casuale ragazzi! Come al solito! Prima era casuale per me! Vabbè! È una versione beta questa ragazzi! C'è da dire che è soltanto una versione beta! E lo dimostra pienamente! Perché non si capisce una sega! Ma io sono molto contento di questa versione! E mo come faccio a raggiungerci? Probabilmente dobbiamo andare in ascensore! Intanto ne appro- Oh! Che cazzo sta succedendo? Ok! Aprimi la porta! Non so come si apra! Come si apre quello? Eh! Devo andare giù! Cliccare! Ok! Devi morire! Ma perché tutto questo casino? Dai! Oh! Oh! Si spezzano le cose! Devo risalire! No! No! Aspetta! Puoi risalire! Salta! Salta! Attaccati con tutte e due le mani! Salta! Non salta più! Arriva! Arriva! No! 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 Però vedi c'è un bug con... No! Penso che adesso sia endless l'attacco alle pareti! Oh no! Aiuto! Aiutami! Aspetta! Non vale così! Fammi risal- Dai! Che merda! Ma io inizio sempre da sopra! Ah dai! Ah vedi! Adesso è tutto diverso! Vieni! 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 Stronzo! No! Ma dai! Ma hai preso per i fondelli proprio! Attenzione! Ma che è sta manco? Bella! Sta cadendo qualco- Uh! Aiuto! Levati! Cadono dei dildo- No! Oh no! Delle salsicce! Alzati! No! Oh! Yeah! Quanto c'hai culo! Però è bellissima sta mappa! Attenzione! Bomba! Bomba! Oh! Via! Yeah! No! Agganciati! Quanto hai culo! Questa è la mappa per me! Esattamente! No! 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 Mi sono agganciato alla banana! La lotteria adatta al Reddit! Ti devo sfondare! Che schifo! Che vince! Due pari! Due pari! Bruttissimo! Due su tre! Dai! Vediamo chi vince! Prossima mappa! Non so che cosa ci sia! Che cazzo è questa? È nuova! Aiuto! È totalmente nuova! Spero che non ci siano elementi di disturbo! No! Rialzati! Oddio! 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 Volevo saltarti addosso! Non vale! Già porto svantaggiatissimo! Perché? Attento! Devo scendere giù! Non mi avrai mai! Che mappa di merda! No! Oh no! E adesso? Oh no! Oh no! Si può continuare giù però! Aiuto! No! Sono protetto dalla... Non posso... Non mi ucciderai! Cazzo! Oh! Dai! Lasciami! Lasciami! Madonna! Ma... Ma non ti riesco a prendere come... Come prima! Sono agganciato come un koala! Sei una merda! Sei una merda! Ma è tutto diverso ragazzi! Non mi trovo per niente! Cavolo! Si! Ti trovi perché... A tirarmi i cazzotti in faccia sei sempre bravo eh! Si ma... Oh! Devo... No! Eheh! Bravo cazzo! Yeeeh! Redez ha fatto una gran figata! Sono il vincitore morale! No! Non puoi buttarmi! No! Non mi avrai! Non mi avrai! Non mi avrai! Guarda come deve morire! Guarda come muore! Guarda! Si è salvato! Yeeeh! Sono il vincitore morale! Dovessi farti fare tutti i piani! No! No! E dai! No! Dai! No! Dai! Ma che merda! E vince! Almeno uno! Anti cappotta! Che schifo! Fantastico! Riproviamo! Ma perché è un altro? Non è tanto finito! No! No perché è... Se vinci tu hai vinto! No! 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 Non mi vedo! Non so dove sono! Perché sei svenuto! No! Sto in piedi! Però se mi muovo casco! Perché non so dove sia! Aspetta che risargo! No! No! Allora saltare ti... No! No! Merda! No! Sti cazzo di... Molto combattuta! Molto combattuta! Molto combattuta! Molto combattuta! Oh! No! Hai vinto tu! Te l'ho vinta! Però sono stato bravo anch'io! E non sarebbe successo un'altra volta! Sì no! Ma infatti è andata proprio bene bene bene! Infatti ricordiamo che Redez adesso... Adesso se ne va giù nell'inceneritore! Perché... Là è il posto! Madonna che cosa ho fatto! Madonna che cosa ho fatto! Ma questa è la bonus mappa! No! Vabbè! Ciao ragazzi!